Medicina di lotta al Covid-19, prevenzione sanitaria, la giornata mondiale del diabete. Torna il Festival della Salute 2020, questa volta a Siena. Un festival che, vista l'emergenza coronavirus, sarà sui canali social e televisivi in una diretta non-stop che proporrà dal 12 al 15 novembre 40 appuntamenti e 16 rubriche per oltre 130 relatori provenienti da tutta Italia. Il tema della salute riguarda il Covid ma va anche oltre il Covid e quindi avere momenti di riflessione, di confronto tra i professionisti, tra altri soggetti, tra le istituzioni, per capire come organizzare e come proiettare nel futuro le politiche della sanità ma più in generale le politiche per la salute credo sia un elemento importante. La prima giornata sarà dedicata ai vaccini. Siena è diventata punto di riferimento anche a livello internazionale per la ricerca scientifica nell'ambito della lotta contro il coronavirus grazie alla Fondazione Toscana Life Sciences e al suo team di ricercatori guidati dallo scienziato Rino Rappuoli. Poi le altre giornate saranno dedicate allo sport, all'intelligenza artificiale, al diabete, alla salute ai tempi del Covid. È un anno molto particolare, un anno importante perché comunque dobbiamo parlare di salute, dobbiamo comunicare quello che sappiamo e è un servizio che diamo anche ai cittadini. Quindi lo facciamo in una modalità nuova, in una modalità televisiva, in una modalità social. Quindi è proprio un festival, forse è il primo festival in tv in Italia. Il festival sarà visibile non stop sulle frequenze 12,95 su www.festivaldelasalute.it e i social della manifestazione. Grazie. 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 Grazie.